non dico niente mi dico niente e mi dico e cosa c'è? ma se tu che... ecceppi cosa io fammi la dista carta non si moscava niente, fammi la tua carta va ma tu che sei il toccatore da carta può fare trenta punti al massimo no ma questo fa ne più un giro non giro questo fa ne più un giro ma faccio un giro fammi due ma che è che è uno? 9, 7, 10 e 2 assi 3 cariche di prima mano 3 cariche non è di pata terni 3 cariche di prima mano mai visto un fatto di questo 3 cariche 3 cariche di prima mano a due dietro 5 cariche di prima 3 cariche di prima 3 cariche di prima 3 cariche di prima 3 cariche di prima e come ti hai giocato? quando hai visto papà giocare? ma se ti viene la carta 5 cariche di prima mano 3 cariche di prima mano ma tu sei pazzito 3 cariche di prima